Hai mandato il tuo figlio a portare le nostre tene per l'ardente luce della verità e della grazia e dopo la sua gloriosa ascensione hai affuso la fiamma del tuo spirito sulla chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di San Nicola e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. E' in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Accendiamo. Accendete. Ecco. Padre e figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao Maria, sì sì, hai ragione. E' vero che scegliamo a bussare un po' di calcio. E' vero. Considerate il tempo in questo momento. Bravo. Quindi consideriamo. Grazie. 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 Buongiorno a bussare un po' di calcio. Grazie a tutti.